Quest'anno in occasione del Natale abbiamo pensato ad una proposta che potesse far avvicinare le persone allo sport chi ancora ad oggi non lo ha fatto, coniugando anche lo sport al relax grazie anche ad uno dei nostri partner, lo Skin Center Spa di Avezzano che ha collaborato con noi in questa iniziativa questo perché dopo il lungo periodo di pandemia comunque l'introduzione dello smart working la DAD per i ragazzi e comunque il fatto di stare chiusi in casa per un periodo molto prolungato ha fatto ancora di più accentuare la necessità per le persone di potersi rifugiare e riporrere allo sport per recuperare non solo la salute e il benessere fisico ma soprattutto quello psicologico l'iniziativa che abbiamo ideato consiste nel poter utilizzare i nostri servizi tutti i servizi della Pinguino a partire dal neonatale, corso nuoto a tutti i bambini, l'acqua gym e l'ultima arrivata in casa Pinguino che è la riabilitazione in acqua quindi si può accedere a tutte queste attività dai 0 ai 90 anni quindi abbraccia una fascia di età molto ampia ad un prezzo molto moderato questo perché? perché si può intanto provare ci si può avvicinare alla disciplina con gradualità ed abbiamo deciso di utilizzare come veicolo di promozione i nostri abbonati che già utilizzano il servizio e che meglio di chiunque altro possono trasferire i benefici che questi servizi danno quindi loro hanno la possibilità di acquistare questa card e di poterla regalare ad amici, a parenti, a familiari e a conoscenti la Trismas Card nasce da un attento studio che abbiamo svolto su tutto il nostro territorio studio che ha evidenziato come i problemi di sedentarietà e di costura siano purtroppo al primo posto proprio questo studio ci ha permesso di poter costruire ad hoc la nostra offerta affinché potesse rispondere perfettamente ai nuovi bisogni che si sono venuti a creare